L'evento mi è piaciuto tantissimo, è stato molto formativo e lo consiglierei veramente a molti amici, come ho fatto già l'anno scorso. Mi ha colpito tanto il fatto che i bambini sono stati tolti dalla strada e che c'è stata una crescita delle famiglie. I bambini vengono seguiti tanto e vengono curati per crescere nel futuro e per dare un futuro anche a questi bambini. L'ho consigliato già e lo continuerò a consigliare agli amici a casa.